Meno lacci e lacciuoli dal Parco del Pollino per le frazioni montane dei comuni ricadenti nell'area protetta. Per amministrazioni comunali e abitanti delle contrade montane del territorio è questo il dato principale emerso dall'ultima riunione della Comunità del Parco Nazionale del Pollino nel corso della quale è stato dato il via libera alla proposta di piano per il parco elaborata dall'ente e adottata dal Consiglio Direttivo il 29 aprile scorso. Una gestazione di ben 18 anni per l'indispensabile strumento per il governo del territorio protetto. Tempi lunghi durante i quali l'Assemblea dei Sindaci, le province, le comunità montane e le due regioni del Pollino hanno lavorato il processo di condivisione delle comunità locali del parco con più alta antropizzazione d'Europa. Ora l'ultimo atto, l'approvazione di Regione Calabria e Basilicata. La nuova zonizzazione proposta introdurrebbe aree agricole e produttive pur mantenendo sotto la classificazione di zone A, B e C una percentuale dell'83% di superficie non soggetta a modificazioni. Edificazioni, trasformazioni e gestione forestale ordinaria saranno invece consentite nella nuova zona D. Tra gli altri elementi salienti del piano, la politica energetica che punta sulle rinnovabili. Cosa cambierebbe per gli abitanti delle zone montane con l'approvazione definitiva del piano? Quali le tipologie di insediamenti produttivi possibili? Si tratta di un'opportunità o di un rischio per il territorio? Di questo si discute nel corso della sedicesima puntata della finestra sul territorio e il programma di approfondimento curato dalla redazione giornalistica di Rete3. Nel corso del salotto televisivo si discute anche di emergenza incendi in vista dell'avvio della stagione estiva. Infine, per la parte dedicata alle buone notizie dal territorio, verranno approfonditi i successi della promozione turistica del Parco del Pollino tra arte, ambiente, cultura e tradizione, sapori e saperi delle filiere dei prodotti tipici dell'area.